Allora, come dicevo prima, tra i tanti progetti che segue Photop c'è questo che si chiama Every Day Climate Change, che è incentrato proprio sul cambiamento climatico. Quindi mi piacerebbe darvi un po' di indicazioni rispetto a come è nato questo progetto. Si tratta di un progetto che è stato fondato da un fotografo, James Wittlodellano, che vive, è americana, ma vive a Tokyo, in Giappone, ormai da quasi vent'anni. Delano ha sempre avuto un occhio particolare, è un fotografo di reportage, è sempre stato molto vicino a quelle che hanno indagini e ricerche rispetto alla situazione ambientale e in particolare, essendosi trasferito in Giappone, ha notato come l'approccio rispetto a quella che era la società americana, rispetto a quella giapponese, fosse molto differente. Quindi da qui ha iniziato a occuparsi appunto di situazioni legate all'ambiente in maniera strutturata, tanto che più o meno il fil rouge di tutta la sua produzione, di tutta la sua carriera, si può riassumere con questa tematica. Nel 2015 ha deciso di fondare questo feed su Instagram, prendendo spunto da quello che è una serie di feed piuttosto diffusi, cioè quelli everyday, magari ci avete fatto caso, esistono diversi account di Instagram, possono essere everyday Africa, everyday India, dove vengono appunto contributi di diversi professionisti della fotografia, dando un po' una panoramica ampia su quello che è la situazione attuale rispetto a un certo tema, piuttosto che a un certo posto. Quindi Deinano, rendendosi conto che in realtà il cambiamento climatico nel 2015 stava diventando sempre più un tema di attualità, di mordente diciamo, e si è reso conto che c'era un po' una concezione sbagliata di quello che era l'emergenza del cambiamento climatico. Cioè molte persone si rendevano conto che il problema esisteva già, ma è come se pensassero che è un problema che si sta verificando in parti del mondo molto remote, quindi non riguarda noi. Questa era soprattutto una credenza diffusa in Occidente. Quindi lo scopo di Deinano è stato proprio quello di creare una rete di fotografi. Spondamentalmente si tratta ormai di 50 fotografi, tutti fotografi e professionisti che collaborano con riviste importanti, parliamo del Times, parliamo di National Geographic, e agenzie di stampa che appunto collaborano con enti di rilievo, con testate di rilievo. Questi fotografi sono tutti sparsi in giro per il mondo, contribuiscono pubblicando appunto su questo profilo le foto che loro scattano magari per motivi più disparati, un servizio fotografico piuttosto che un progetto, una ricerca personale, per dare al pubblico quella che è una panoramica in tempo reale e soprattutto globale rispetto a cosa significa cambiamento climatico. Cambiamento climatico non significa la stessa cosa dovunque siamo. Come sapete, per esempio, mi piace farvi vedere come in realtà questo feed di Instagram sia attuale portandovi alcuni esempi. Se seguite un po' le notizie negli ultimi giorni ci avvertono che in California per esempio si stanno verificando di nuovo una serie di incendi di portata eccezionale e che affliggono la zona ormai da un paio d'anni con una cadenza fin troppo frequente. La California è sempre stata una zona dove purtroppo questi eventi disastrosi si verificavano ma la cadenza con cui si stanno verificando ultimamente era passando a tutte le soldi di alarme che avevamo previsto fino ad oggi. E quindi per esempio in questi giorni, qui vi sto facendo vedere delle fotografie che sono state pubblicate l'8 di ottobre, quindi parliamo di meno di 10 giorni fa che sono proprio una testimonianza in presa diretta di quello che stava avvenendo in alcune zone degli Stati Uniti. Allo stesso modo per esempio, sempre per prendere in considerazione magari le testimonianze di luoghi che conosciamo bene, quest'estate quando c'è stata un'emergenza sempre in cedi che divampavano in maniera molto distruttiva in Amazzonia, ci sono stati diversi fotografi che contribuiscono al progetto e che hanno condiviso le immagini che avevano scattato. Quindi qua potete vedere per esempio delle riprese aeree, qui poi entriamo nel dettaglio invece di foreste che bruciano fino a una presentazione di quelle che erano le persone coinvolte attivamente nel cercare di agginare questa emergenza. Qui potete vedere per esempio quelle che sono la guardia forestale brasiliana, alcuni volontari che sono peraltro persone autotone del luogo e che quindi conoscono più che bene il territorio e si sono offerte volontarie per cercare di agginare questi incendi. Perciò quindi la prima caratteristica di questo progetto è che è un progetto collettivo che permette di seguire in contemporanea e in tempo quasi reale quelli che sono i diversi effetti che il cambiamento climatico sta avendo in tutto il mondo. Adesso mi stacco un momento da quello che è il live feed di Instagram e vi mostro un po' quelle che sono alcune delle foto più rappresentative e dei contributi che ci mostrano appunto le casistiche nei vari continenti. Scusate solo un momento. Allora, vi dicevo che i fotografi che contribuiscono a questo progetto ormai sono passati 4 anni dalla fondazione del progetto sono oltre 50 e sono sparsi praticamente in ogni continente. Io adesso ci tenevo a farvi vedere un po' quelle che sono alcune delle situazioni più gravi, più allarmanti. Qui per esempio vediamo una fotografia di Frank Vogel e questo è un affluente del Colorado. Allora, tenete presente che il Colorado è l'unico fiume al mondo che ormai non sfocia più nell'oceano. Non è l'unico però. Ah ok, allora questa è una melodica forse troppo datata, mi dispiace. Però, insomma, dato all'armante è ancora peggio se non è più l'unico. In questa fotografia notiamo che, qui potete vedere dove sta passando il mouse, ci sono questi segni bianchi sulla roccia. Questi segni bianchi sulla roccia sono quelli che la popolazione di Navaio chiama i segni della vasca da bagno perché fondamentalmente sta succedendo quello che capita quando noi togliamo il tappo alla vasca da bagno e sguotiamo. L'acqua si sta abbassando. Si sta abbassando talmente tanto che vediamo appunto come la roccia che una volta era assolutamente coperata dall'acqua ha una colorazione differente proprio perché ormai i livelli di acqua stanno diminuendo in maniera molto molto allarmante. Questo ovviamente in parte è dovuto all'inanziamento delle temperature. Altro effetto assolutamente sotto gli occhi di tutti che sta apprigendo quello che è il territorio degli Stati Uniti e quindi è appunto come dicevamo prima un intensificarsi di quelli che sono gli incendi spontanei. Questa fotografia è del 2016. Nel 2017 forse ricorderete soprattutto a cavallo da dicembre come eravamo nel periodo delle vacanze di Natale c'era stato un periodo tragico per la California. Questa è la fotografia di una fotografa che è scandinava ma vive ormai in California da una decina d'anni e lei proprio nella zona dove abita la strada di Santa Barbara ha purtroppo documentato quella che è stata la distruzione di abitazioni private a Machiazobio. Quindi qua viene una persona che di colpo si è trovata assolutamente senza nulla. Quindi insomma il cambiamento climatico questa è una dimostrazione molto valida di come il cambiamento climatico non affliga solo zone remote del pianeta. Allo stesso modo vi dicevo il progetto ha come uno degli obiettivi principali quello di tenerci aggiornati sulla situazione attuale. Resta però che molti dei fotografi che partecipano a Evidential Change sono persone che si occupano di problematiche ambientali ormai da anni. Questa per esempio è una delle fotografie più datate è stata scattata nel 1996 quindi è stata scattata in piccola per intenderci e poi è stata scannerizzata apposta per esempio su internet e ci mostra come questo è un aereo che sta spruzzando pesticidi in quantità assolutamente più che dannose in particolare qua si trattava di un'indagine che questo fotografo, Gendi Russell stava facendo sull'utilizzo di pifosato molti altri poi fotografi hanno approfondito la tematica i danni non sono solo ambientali sono anche per la popolazione che vive nelle zone dove veniva usata questa sostanza e sono dei danni assolutamente a lungo termine cioè sono pesticidi che distruggono qualsiasi cosa e portano anche in questo caso si sa era una zona dell'Amazzonia siamo in America del Sud e questo in particolare nel 1996 era diciamo un'operazione che mirava a distruggere quelle che erano piantagioni di droga di coccalina il problema è che distruggendo le piantagioni in realtà non si arginava così il problema perché semplicemente chi in alto trafficante si spostava più all'interno quindi ancora più in profondità nella foresta amazzonica e soprattutto veniva distrutta qualsiasi cosa non solo l'obiettivo per cui veniva appunto lasciato questo pesticida vi dicevo l'altro obiettivo oltre a tenerci aggiornati in tempo reale è l'idea che non change si propone di farci capire che il cambiamento climatico non è una cosa che non ci riguarda il messaggio principale di questo progetto è che il cambiamento climatico sta avvenendo proprio qui e proprio adesso proprio qui ce lo mostra molto bene questa fotografia si tratta di un'immagine scattata a Parigi nel 2016 nell'estate del 2016 questa è la Senna che ha esondato e nel 2016 ha raggiunto dei livelli che non raggiungeva pensate dal 1982 quindi la foglia d'allarme si alza e si alza anche proprio nelle nostre città sempre rimanendo il tema purtroppo di inondazioni questa è un'immagine tratta da un progetto di un fotografo che si chiama Dion Mendel Mendel ha praticamente girato il mondo negli ultimi anni documentando situazioni domestiche di persone che per eventi eccezionali quindi alluvioni di portate eccezionali si sono trovati appunto senza casa in questo caso stiamo in Inghilterra la situazione non è così tragica diciamo la verità però mentre per esempio in Sud America ci sono state intere cittadine scollate stessa cosa negli Stati Uniti per non parlare del Bangladesh che è uno dei paesi con il più basso livello la più bassa altezza sul livello del mare quindi c'è un'erosione costiera che sta portando via chilometri chilometri di costo e di territorio in questo caso però il dato che è veramente molto allarmante è la frequenza ancora una volta con cui si stanno verificando questi episodi qua stiamo in una zona del Regno Unito dove non era assolutamente impensabile conosciuto la possibilità che ci fossero delle alluvioni il fatto che però si stiano verificando con cadenza quasi annuale è un campanello d'allarme più che chiaro allo stesso modo è un campanello d'allarme ci troviamo ancora una volta nel Regno Unito il fatto che per esempio qui siamo a Brighton siamo fino a ottobre del 2017 e la gente in costume da bagno il clima sta cambiando decisamente io proseguo con la carrellata di immagini mi piace farvi vedere che appunto il cambiamento climatico sta avvenendo mi piace mi spiace non mi piace che il progetto abbia proprio questi effettivi sta avvenendo nei nostri territori ma sta avvenendo in tutto il mondo qui ci troviamo in Oceania e in qualche modo dobbiamo iniziare a pensare che i nostri comportamenti anche se sono comportamenti che adottiamo a casa nostra e apparentemente possono sembrare innocui per quello che è il nostro vivere quotidiano hanno delle ricadute a volte in zone anche molto lontane da noi in questo caso vediamo come il disboscamento operato in maniera indiscriminata da molte industrie multinazionali occidentali quindi qui per esempio vediamo questo è un reportage realizzato per Greenpeace da Jerry Sattonivert che è un fotografo che ha collaborato con il 26 moltissimi anni e questa è un'immagine abbastanza iconica cioè si tratta di veramente quantità strutture di legname che poi vengono utilizzate come materie prime per la realizzazione di prodotti di altre industrie occidentali dicevamo quindi cosa vuol dire che abbiamo comunque una responsabilità cioè se noi se appunto le nostre multinazionali disboscano in maniera indiscriminata l'oceania si verificano questi fenomeni c'è questa immagine che è bellissima sembra per primo sguardo se voi la guardate troviamo un paesaggio tropicale una luce al tramonto stupenda poi però se guardiamo un po' meglio notiamo che questo ragazzo sta nuotando tra quelle che sono le fronde degli alberi cioè questo era il suo villaggio che è stato completamente sommerso dal mare perché ovviamente in maniera indiscriminata non si ha più nulla che fermi l'avanzamento del mare le temperature che aumentano portano anche queste a un aumento del livello delle acque e questa problematica sta affliggendo moltissimi paesi in Africa per esempio c'è tutta la costa che va dal Ghana Togo Benin quindi parliamo dell'Africa occidentale che sta perdendo un po' come vi dicevo prima come nel Bangladesh sta perdendo interi centri abitati perché ormai la marea arriva così in profondità che spesso gli abitanti di queste zone non sanno più dover succedere cioè se negli anni passati un po' diciamo per necessità le persone cosa facevano una volta che le case venivano abbattute dall'avanzare dell'acqua e le procedevano quindi ricostruivano questi villaggi man mano cercavano di essere spostati più in profondità siamo arrivati al punto dove non c'è più spazio cioè non c'è più niente dietro per ricostruire e quindi insomma un po' con grande dispiacere per esempio Matti che è una fotografa italiana che ha visto per molti anni di base a Milano ha viaggiato tantissimo in queste zone ha dovuto documentare che se c'è una sorta di attenzione per i centri abitati più grossi in realtà questi villaggi vengono un po' lasciati a loro stessi e scompariranno purtroppo oltre alle problematiche legate all'aumento del livello dei mari per esempio in Africa bisogna far fronte anche a giulino opposto la siccità la siccità è un altro effetto catastrofico del cambiamento climatico in questa fotografia molto significativa vediamo per esempio una donna di una comunità somala che ha perso completamente il suo bestiame viveva di questo e pur spostandosi in zone che sembravano meno colpite dall'inanziamento delle temperature non è riuscita comunque a far fronte a questa emergenza torniamo invece in uno scenario che forse a noi potrebbe essere più familiare qua ci troviamo a Tokyo e questa è una fotografia che è stata scattata dal fondatore del progetto vediamo come De Nani si è riuscito a catturare in questa immagine quello che è il fronte di Intifone anche in questo caso lo ripeto è vero che in certe zone dell'Asia i stradoni di nonzoni di precipitazioni particolarmente intense capitano ma non capitano con la frequenza con cui si stanno verificando questi giorni in questo periodo per esempio poco tempo fa parlo di notizie di giorni fa si è verificato proprio un quindi la frequenza è assolutamente allarmatica questo progetto questa fotografia scutate fa parte di un progetto molto ampio anche questa è un'immagine che in un certo senso vuole farci riflettere come le nostre abitudini hanno un impatto sempre anche quando lo vediamo in questo caso quelle che vedete sono dei gambaretti che sono dei modelli di nebbia dovete sapere che in occidente una grandissima quantità di frutti di mare e di gambaretti viene importata proprio dall'Indonesia perché? perché costano poco quindi quando noi mangiamo un nostro cocktail di gamberi a un prezzo non esagerato e lo ordiniamo sul menù di un ristorante forse non sappiamo da dove arrivano questi gamberi questi gamberi in realtà arrivano da delle coltivazioni intensive la fotografa che ha portato avanti questo progetto ci tengo a nominarla si chiama Elisabetta Zavoli è di Rimini ma ha vissuto moltissimi anni in Donete proprio sul territorio e ha documentato come piegandosi a quelle che sono le richieste del mercato occidentale in un territorio che non ha un'economia molto florida cosa si è innescato questo meccanismo per cui per molto tempo si sono distrutte foreste di mangrovie per lasciare spazio a quelli che erano allevamenti intensivi di gamberetti che poi peraltro venivano immediatamente portati in occidente il danno è duplice perché intanto le mangrovie sono incubatori di anidride carbonica significa che fondamentalmente quando noi abbattiamo una foresta o comunque un gran numero di questi alberi rilasciamo nell'atmosfera anidride carbonica che è degli elementi principali per cui si sta registrando un alzamento delle temperature l'altro fronte di danno era che non solo venivano appunto abbattute le foreste ma poi questi gamberetti non venivano consumati sul luogo ma venivano portati in occidente quindi tutto quello che le consegue di trasporto carburante impacchettamento esatto ci stavo proprio arrivando tra pochissimo ci tenevo a far vedere una fotografia e vi dicevo il progetto quindi prende l'esame un po' tutto il mondo prende l'esame tutto il mondo non solo mostrando le problematiche specifiche dei vari territori rispetto al cambiamento climatico ma anche quelle che sono le soluzioni che si possono adottare quindi adesso faccio un piccolo fast forward le soluzioni per un'inversione di tendenza è chiaro che non saranno le stesse ovunque ma per esempio qua vediamo un'immagine bellissima di questo parco eolico è stata scattata a Whiteley in Scozia questo è il più grande parco eolico uno dei più grandi parchi eolici che c'è in Europa alcune per esempio compagnie che forniscono energia elettrica utilizzano questo genere di fonte primaria un'altra soluzione questa per esempio è un'abitudine molto diffusa in megalopoli asiatiche come per esempio Tokyo tutto quello che può essere trasportato senza l'utilizzo di una maschina di un camioncino di un motore che va a carburante viene trasportato con questi carrelli che sono un po' l'equivalente di una piccola bicicletta diciamo con cui i fattorini consegnano posta pacchetti certo direte voi forse non è non farà la differenza il signore che vediamo fotografato qua nello specifico ma se si adotta su scala mondiale come pratica insomma un impatto o averlo qui per esempio vediamo invece un'altra tipologia di diciamo soluzione per utilizzare quelle che sono fonti rinnovabili questa fotografia è stata scattata a Auroville che è tuttora una comunità che è stata fondata negli anni 60 in India una comunità che si dedica appunto all'APE al rispetto ambientale e in particolare tutto tutta Auroville utilizza fonti di energia rinnovabile questo nel 2001 quando è stata scattata l'immagine era il piatto solare più efficiente che era mai stato costruito che appunto riusciva a provvedere al fabbisogno dell'intera comunità andando invece a diciamo soluzioni pratiche che ci sono più familiari per esempio questa è un'immagine del centro della Scozia di Glasgow dove viene incoraggiata la raccolta differenziata non solo nei luoghi pubblici ma addirittura è stata istituita ormai da diversi anni una giornata che è incentrata proprio sulla spiegazione pratica in tutti gli uffici pubblici nelle scuole e nei musei durante una certa giornata solitamente nelle prime settimane di novembre vengono date indicazioni molto semplici molto pratiche affinché le persone e i cittadini seguano correttamente quello che è la divisione dei rifiuti qui poi volevo fare un piccolo salto indietro perché ti ho detto appunto che Everyday Climate Change ci fornisce un po' quello che è il colso della situazione in tutti i continenti e la cosa curiosa è che ci sono anche fotografi che mandano contributi dal polo in questo caso siamo nel polo nord e questa è una fotografia scattata da Eister Orwart che è una giovane fotografa che collabora con l'istituto di ricerca tedesco e che proprio poche settimane fa a fine settembre si è imbargata sulla spedizione Mosaic Mosaic è una spedizione di ricerca la più grande che è stata mai finanziata fino ad oggi per studiare quello che è l'ambiente marino al polo l'importanza di studiare l'ambiente marino al polo è che in realtà l'ambiente marino di quella zona è il più sensibile che abbiamo sul pianeta quindi tutte le differenze e mutamenti che saranno rilevati nel mare attico ci daranno un'indicazione preziosa per capire cosa potrebbe succedere poi anche dalle nostre parti e se vi fa piacere potete seguire quello che è l'evoluzione di questa spedizione c'è un sito dedicato lo trovate su mosaic trattino alto expedition.org la spedizione durerà un anno esattamente un anno e quindi un gruppo internazionale di ricercatori scienziati saranno a bordo di passanare un bighiaccio che percorrerà appunto una rotta prestabilita sul mare attico per fare delle rilevazioni molto importanti qui vediamo per esempio che appunto la ORWAT ha mandato un po' di testimonianze di spedizioni precedenti e quindi vediamo tutte le apparecchiature che vengono utilizzate per compiere questi studi ma l'attitudine di questo non diventa un sistema come? ma l'attitudine di questa fotografia esattamente non glielo studiare però la base si allora la base è Nialesund si trova il territorio fa parte della Norvegia e della più grossa base internazionale dove appunto si alternano diverse squadre di ricerca poi questa in particolare mi sfugge però ecco la cosa curiosa se siete interessati è che su questo sito dedicato alla spedizione potete trovare anche esattamente la posizione della nave in questo momento vedete potete seguire quasi giorno per giorno dove si trovano gli scienziati di ricerca concluderei con un po' una piccola carrellata di quelle che sono state le tappe espositive del progetto come vi dicevo Everyday Climate Change è un progetto che si si propone di insomma aumentare la consapevolezza su quella che è la situazione del cambiamento climatico in diverse zone del mondo e con Photoop stiamo cercando di diffondere il progetto non solo tramite internet tramite il feed di Instagram ma anche portando in giro per il mondo in giro per l'Europa e l'Italia fotografie stampate che provengono da questo progetto qui vediamo la partecipazione al festival di Photoville a New York qui invece sono alcune delle fotografie che sono state esposte sempre all'inizio di un festival di fotografia a Bangkok in questo caso stiamo a un altro festival di fotografia a Valencia in Spagna di nuovo in Spagna come vedete poi le location sono differenti è differente anche il pubblico che viene a visitare queste mostre la speranza però è che sia il più ampio possibile chiaramente in questo caso per esempio è stata un po' un'operazione a spot quasi sorpresa sono state stampate le fotografie su dei materiali vinilici quindi che resistono all'acqua e ad agosto del 2017 scusate del 2018 sono state esposte sul lungomare di Cascais in Portogallo quindi le persone passeggiando un po' tornando a carro dalla spiaggia potevano vedere forse buttavano l'occhio su queste immagini piuttosto esensificative comunque si cerca di attirare l'attenzione un po' con diverse modalità in questo caso vedete invece la prima tappa italiana della mostra che è stata a Verona al museo civico di storia naturale qui è in Toscana quest'estate abbiamo esposto sempre una settantina di immagini dal progetto a Orbitello in Maremma e infine ci sono appunto le immagini della mostra segnale io vi invito a seguire Everyday Kind of Change sull'account di Instagram se invece volete sapere dove si terrà la prossima esposizione di questo progetto potete seguire a Quotop oppure dare un'occhiata al nostro sito vi ringrazio molto attra attra un'occhiata attra all'inno che un'occhiata a un'occhiata attra di un'occhiata che